Vuoi o non vuoi? Assolutamente sì. Assolutamente. Dopo tutto questo sì. Bella la gialla. Allora, sono orgogliosissimo di te. Perché è vero, tante persone, tanti ragazzi, tanti ragazzi sono rivisti in noi, nella nostra storia. Però io sono orgoglioso soprattutto perché tante ragazze, tante donne si sono riviste in te. Tu lo sai quanto io credo in te? Anche quando per te tutto, tutto era buio. Io ho sempre saputo, sempre pensato che in te ci fosse qualcosa di speciale. E non pensare mai più, mai più, che non vali nulla. Perché vali tanto, tantissimo. Questa è la cosa più importante che ti volevo dire. Mi sono ancora orgogliosi. Questa è la cosa più importante che ti volevo dire. Non potete vedere quanto era dura la sera del giorno. Questa è la cosa più importante. Questa è la cosa più importante.